Edgar Reichill è morto a 92 anni. Era rinchiuso dal 2005 in una prigione federale per una condanna a 60 anni di carcere. Edgar non era un vecchietto qualsiasi. Era un ex leader del Ku Klux Klan, l'organizzazione razzista e violenta che si stima abbia avuto fino a 2 milioni di membri negli anni 20 responsabile della brutale uccisione nel 1964 di tre giovani attivisti per i diritti civili degli afroamericani. Un omicidio che sciocca gli Stati Uniti. Faciliti il passaggio del Civil Rights Act nello stesso anno e fu poi magistralmente raccontato nel 1989 De Cali Tri regista Alan Parker nel film premio Oscar Mississippi Burning. Le radici dell'odio. La scomparsa Mississippi Burning. M-I-B-U-R-N. Questo era il nome in codice dato dal FBI all'indagine che porta soltanto 40 anni dopo alla condanna di Ray Killen. Le vittime dell'odio razzista James Cheney. Andrew Goodman e Michael Schwerner. Tutti poco picche ventenni erano membri del congresso per l'uguaglianza razziale e in quell'estate del 1964 si trovavano nello stato del profondo sudamericano per convincere gli afroamericani ad iscriversi nei registri elettorali, arrestati e quindi rilasciati dalla polizia locale. In una piccola cittadina a 10 miglia da Memo Fis. Nella contea di Nescioba. Nella notte del 21 giugno i tre uomini caddero in un'imboscata dei cavalieri bianchi del Ku Klux Klan, avvertiti dagli stessi poliziotti. Di loro non si seppe niente per giorni. Ben presto la notizia si diffusi in tutti gli Stati Uniti. L'omicidio del Ku Klux Klan ordine di Bob Kennedy a Washington. Quell'anno, era ministro della giustizia il giovane Robert Kennedy assassinato quattro anni dopo durante la campagna per le presidenziali che decise di inviare sul posto una squadra di investigatori dell'Efbi. I corpi senza vita, crivellati di colpi, furono ritrovati soltanto dopo sei settimane. Sepolti in un terrapieno nei pressi del luogo dell'omicidio. Gli agenti federali arrestarono una decina di sospetti. Incluso il vice scerifico della Contea. Un giudice del Mississippi cerc di far cadere le accuse ma la Corte Suprema abloci il tentativo di insabbiamento. 18 uomini finirono a giudizio nel 1967 per violazioni dei diritti civili. Soltanto sette furono condannati per reati minori da una giuria di soli bianchi. Nessuno ha trascorso più di sette anni in carcere. La condanna Edgar Ray Killen, un ex predicatore battista, fu accusato di essere il mandante dell'omicidio ma il suo processo venne sospeso dopo che una giurata affermi di non poter condannare un religioso. Per 40 anni la causa resto bloccata. Fince non si aprirre il nuovo processo nel 2005 presso la Corte di Filadelfia. La pubblica accusa sostenne che fu lui a organizzare il commando omicida. Anche se non partecipi direttamente all'assassinio dei tre attivisti. L'allora 8 genario Ray Killen fu condannato a tre pene di 20 anni di reclusione da scontare. consecutivamente per omicidio preterintenzionale. Venne portato via dall'aula in sedie e rotelle e non si pent mai delle sue idee razziste. La sua richiesta di appello. Dove affermi che nessuna giuria di suoi coetanei lo avrebbe condannato sulle prove presentate. Stata respinta dalla Corte Suprema del Mississippi nel 2007. La campagna Freedom nel 1961. La campagna Freedom Riders costito una sfida alla segregazione. Ancora vigente in Mississippi. E incoraggi l'agitazione sociale nel sottoproletariato di colore. In quel momento la maggior parte della community nera era negato il diritto al voto ed il. Congresso per l'uguaglianza razziale promosse una serie di attivite come le campagne per l'iscrizione. Nei registri elettorali e le cosiddette Freedom Schools. Allo scopo di incoraggiare e distruire i cittadini afroamericani. Il Civil Rights Act approvato dal congresso americano nel 1964 dichiari illegali le disparite di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole. Sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in generale.